Gino Mader, il giovane ciclista svizzero di 26 anni, purtroppo deceduto, è stato il suo team, il Brian Victorius, a comunicare la triste notizia attraverso un comunicato ufficiale. Mader era arrivato in condizioni critiche all'ospedale di Coira dopo l'orribile incidente accaduto durante la quinta tappa del Giro di Svizzera, tenutasi ieri. La sesta tappa, programmata per oggi, è stata inizialmente posticipata e successivamente annullata dai commissari di gara dopo una lunga riunione. La decisione è stata presa in seguito alla volontà di mostrare solidarietà, cordoglio e rispetto per la perdita subita dalla famiglia di Mader.